io non so veramente che dire sono sconfortato non mi viene le parole non mi viene le parole perché perdere una partita in questa maniera contro un Milan che sebbene giocasse in casa il che c'aveva sto Milan stasera il che c'aveva nulla era spuntato era una squadra che proprio Pioli l'aveva messa in campo sì cercata di portare a casa un punticino madonna ragazzi c'è seggiato un pochino il secondo tempo e basta perché il primo stendiamo un velo pietoso stendiamo un velo pietoso quattro sconfitte nelle ultime quattro partite un attacco che non si segna nemmeno con le mani davvero non voglio sta a parlare di episodi arbitrali perché se no ci sono sempre attaccare a quelle cose lì qui ci sono dei problemi che vanno risolti e vanno risolti velocemente perché un le puoi vincere tutte con il go dei centrocampisti dei difensori e servo una punta e servo una punta ovvia io non ho parole guarda non ho intenzione di dire nient'altro stasera il video è corto perché mi girano le palle una maniera incredibile una maniera incredibile quindi lascio la parola ai miei amici che mandano messaggi e basta non voglio proprio fare niente non voglio proprio dire nient'altro sono veramente sconcertato non mi venite a parlare sì ma le occasioni ci sono avute e ci siamo svegliati gli ultimi 15 minuti dai ragazzi le partite durano 97 minuti come stasera dai lasciamo stare andiamo oltre andiamo oltre eccoli qua i messaggi dei nostri amici partiamo dal chimico viola un saluto all'indiavelato dai chimico viola allora io dico subito che per me questa è una sconfitta imbarazzante abbastanza imbarazzante vi spiego subito il perché perché la Fiorentina non può permettersi di perdere quattro partite nelle ultime cinque perché non può perdere oltre il Milan due che anche per lì c'erano un campo mi sembravano molto sotto tono quindi la Fiorentina per me è da ottavo posto forse nono anche perché per me in Bologna è meglio tre volte di noi un saluto a tutti continuiamo con i pizzacchiere a freddo buonasera a tutti da pizzacchiere agli amici dell'indiavelato ma che vi devo dire ragazzi la solita partita arruffata con 150.000 episodi strani secondo me movimenti proprio sbagliati in fase di costruzione dell'azione sempre con questo rosso 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 però non si porta non si tira ma un porta a modo decente che vi devo dire ennesima ammarezza buonasera e concludiamo con Alex Bond amministratore del gruppo Bati Viola Group su Facebook buonasera sarò breve Firenze va rispettata della partita non parlo parlo degli episodi parlo di Mazzolini parlo di un arbitraggio scandaloso non me ne frega un cazzo quante occasioni si è avuto e quante ne hanno avute loro e Terracione stava forte e basta e fa parte di Viola quindi basta con questo schifo questo è lo schifo oggi è andato in scena lo schifo del calcio quattro cose contro la Fiorentina io voglio il mio e voglio rispetto per Firenze punto e basta con questo ci salutiamo stasera non c'è da dire nient'altro siamo tutti incazzati perché perdere partite così è veramente veramente una cosa per me che non ci sta tutta la vita quindi vi saluto vi rimando al prossimo video e stasera si va a letto belliardi buonanotte a tutti e stasera si va a letto